Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere, ma una casa a cui tornare. Tornare, non andare. Ma perché ci abita qualcuno lì? Ci abitiamo noi. Io, mio marito e due bambini. Con cui sono Fabio. Volevo. Qua ci abita da solo con tutta la sua famiglia. Sono io tutta la mia famiglia. Io non capisco perché tu hai questa fissazione di perdonargli tutto. Perché un padre è un padre. Stai bene con tua madre? Non mi fa usare la Playstation, non mi fa chattare. Hai mai pensato a scappare di casa? Non poi ho danni. Lei è molto legato a sua nipote. È più di un padre. E invece non riesco con i miei figli. Non so mai cosa dire. Vada via! Via! È stanco. E quando è stanco gli saltano i nervi. Ma prima a starci male è lui. Penso che nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene. Sfrida di più. È un po' didomo. Non so mai. Bene. Non so mai. È un po' didomo. Non so mai. Non so mai. Non so mai. Grazie per la visione!